Musica Si è spenta 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, la conduttrice televisiva Nadia Toffa. A dare la notizia sui propri canali social è stata la redazione delle Iene, trasmissione con cui Nadia Toffa collaborava dal 2009. La conduttrice aveva rivelato la malattia l'11 febbraio 2018, raccontando passo dopo passo la sua battaglia tramite i social network e pubblicando il libro Fiorire d'inverno, la mia storia. Le parole del ministro del lavoro Luigi Di Maio su una possibile alleanza politica con Matteo Renzi. Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Sto sentendo online tante persone che mi scrivono ti prego non sedetevi al tavolo con Renzi, adesso sarebbe un errore madornale. Qui nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Aperture, chiusure, mezze aperture, mezze chiusure. Il Movimento 5 Stelle vuole una cosa, che si apra al taglio dei 345 parlamentari. Noi siamo pronti, inoltreremo la richiesta alla Presidenza della Camera e ci aspettiamo che la Camera possa votare sul taglio di 345 parlamentari. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sugli affitti delle case vacanze evidenziano come i 2 su 3 siano irregolari. Le verifiche delle fiamme gialle sono iniziate a giugno nelle località balneari, in montagna e nelle città d'arte. Complessivamente sono stati effettuati 27.121 controlli, il 22% in più rispetto al 2018, circa 400 verifiche al giorno. Prosegue anche la lotta al lavoro in nero, con la scoperta negli ultimi tre mesi di quasi 6.500 lavoratori irregolari, con il 42% composto da stranieri. Tra gli irregolari anche 24 minorenni. L'estate 2019 fa registrare una crescita di vacanzieri che scelgono gli agriturismi. Sono stati 8,2 milioni a decidere di passare le ferie in agriturismo, in aumento del 3% rispetto all'estate 2018. Secondo la stima di Coldiretti, il risultato è legato all'interesse crescente dei vacanzieri per il relax a contatto con la natura e per l'enogastronomia locale. In Italia, le oltre 23.000 aziende agrituristiche sono in grado di offrire più di 253.000 posti letto e 442.000 coperti per il ristoro, oltre a 11.700.000 piazzole per l'agricampeggio e 1.500 attività di fattoria didattica per i bambini. Coldiretti sottolinea anche come gli agriturismi abbiano arritito la propria offerta con servizi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attività culturali e corsi di cucina e wellness.